cosa hai comprato cosa hai comprato uscino la mia ragazza aspetta tino questo è quello c'hai pucci pucci fa vedere allora tu sei venuto sei venuto a primark ti sei alzato a che ora stamattina le sei alle si da dove vieni da santeramo da santeramo per comprare un misto fra un maiale e un salsicciotto alla fidanzata che quando lo vede che cosa ti deve dire spero spero che le piaccia non prenderai solo questo non prenderai solo me lo auguro che cos pur 14 euro 14 euro va bene allora mi raccomando ti prego quando glielo dai fai un video della sua reazione e mandacelo su quinto potere va bene ok te ne supplico perché voglio vederla quel salsicciotto poi dove lo deve collocare va bene per ora e solo per ora tino questi sono gli effetti della comunicazione una comunicazione spinta fatta bene sui social in cui si martella continuamente fino a che il nostro amico come ti chiama francesco il nostro amico ciccio per alcuni amici viene qui da santeramo ad acquistare il salsicciotto che da un po di maiale un po di non si sa chi per la sua fila per san valentino e quindi abbiamo sputtanato il regalo però va bene ognuno figurati se lei ci vede come si chiama la tua fidanzata arianna deve fare il vero regalo dai fare una dichiarazione d'amore in mondo visione vai ari ti amo sto facendo tutto questo per te di qualcosa di più sentimenti 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 quando ti vedo i miei occhi si luci vedo non capisco più niente vai vai cosa è da dove una stella nel firmamento del cielo se la luce dei miei occhi io ti amo da morire farei di tutto per te quando me la dai vai quando me la dai che poi alla fine della fiera va bene tino buon san valentino a tutti buon san valentino a tutti come si chiama la fidanzata no tino non lo dire così come si chiama la fidanzata arianna arianna mi raccomando d'agliela